RINNOVATO L'UDP DEL CONSIGLIO REGIONALE ALL'ASIA RIELETTO PRESIDENTE LOTTA A BULLISMO E CYBERBULLISMO APPROVATI ALL'UNANIMITÀ DUE ORDINI DEL GIOORNO Giorno del ricordo, numerose le iniziative sostenute dal Consiglio regionale Nuova edizione di Consiglio News ben trovati in apertura e rinnovo dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte Stefano All'Asia è stato eletto nuovamente Presidente del Consiglio regionale del Piemonte ottenendo così la conferma da parte dell'Aula per l'intera legislatura RINNOVATO L'INTERO UFFICIO DI PRESIDENZA Vicepresidenti sono stati eletti Franco Graglia, Forza Italia e Daniele Valle, Partito Democratico Consiglieri segretari infine Gianluca Gavazza, Lega, Ivano Martinetti, Movimento 5 Stelle e Michele Mosca, Lega Per il prossimo futuro avremo tante riforme da fare come regione, come ufficio di presidenza parlo della legge elettorale, parlo del regolamento, parlo dello statuto Quei tasselli fondamentali che devono essere rimodernati per fare in modo tale che la regione sia effettivamente una regione ai passi di tempi allineate con le altre regioni Il nostro lavoro è quello di stare accanto assolutamente a tutti i piemontesi soprattutto alle fasce deboli perché noi hanno riposto grandi aspettative e non dobbiamo assolutamente deluderli Per me è un grande onore rappresentare le opposizioni all'interno dell'ufficio di presidenza e penso che ci siano le condizioni per poter lavorare insieme e far sì che il Consiglio regionale diventi davvero la casa di tutti i piemontesi È stata una riconferma in un momento di pandemia, in un momento molto particolare per il Piemonte e per il nostro paese sicuramente è una gratifica, ciò vuol dire che quando si lavora, si lavora bene È una grande soddisfazione politica, personale e professionale io sono veramente onorato di poter ricoprire questo ruolo che andrò a svolgere con la stessa determinazione, l'entusiasmo e la praticità con cui affronto sempre qualsiasi tipo di lavoro da sempre Vorrei dare continuità al lavoro che è stato fatto in questi primi due anni e mezzo quindi soprattutto l'impegno nella consulta europea dedicato alla formazione degli enti locali con un'iniziativa che abbiamo avviato lo scorso inverno e andrà avanti per tutto il 2022 potrà essere lo spunto per proseguire con nuove attività e nuove iniziative che portino quindi soddisfazione a tutti gli enti locali, in particolar modo ai piccoli comuni Prima del voto si è registrata la richiesta di sospensione da parte di Fratelli d'Italia Paolo Bongioanni ha dichiarato che questo è l'unico caso in Italia in cui un partito di governo viene escluso per tutto il quinquennato dall'ufficio di presidenza Colpire un bambino significa colpire il cuore di una società lasciando tracce indelebili che condizioneranno il suo futuro e potenzialmente quello di chi li sta accanto Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia nella commemorazione dei bambini vittime di violenze e maltrattamenti che si è tenuta in aula, convocata in videoconferenza Allasia ha ricordato il caso della piccola Fatima Schica, la bambina di tre anni morta in centro a Torino cadendo dal quarto piano e ha riportato le terribili cifre del fenomeno sono circa 400.000 i bambini e ragazzi presi in carico dai servizi sociali Al termine del discorso l'aula ha osservato un minuto di silenzio Contrasto a bullismo e cyberbullismo approvati all'unanimità due ordini del giorno a firma Stecco, Lega e Rossi, Partito Democratico tante anche le iniziative promosse dall'Assemblea regionale in occasione della giornata nazionale Non si può accettare che giovani vite possano essere indotte a gesti estremi a causa di reiterate vessazioni commesse non di rado da coetanei anche attraverso un uso distorto della rete Queste le parole del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo che si è celebrata il 7 febbraio Come previsto dalla legge regionale 2 del 2018 disposizioni in materie di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo l'Assemblea legislativa piemontese nella seduta di martedì ha ricordato le vittime di bullismo e cyberbullismo e per l'occasione lo schermo della diretta in videoconferenza e la pagina facebook dell'Assemblea hanno inserito gli hashtag no bullismo e no cyberbullismo a fianco del logo del Consiglio Approvati all'unanimità dall'Aula anche due atti di indirizzo sul tema Il primo, affirma Alessandro Stecco, lega che invita la giunta regionale a continuare negli sforzi compiuti in questi anni affinché si dia il giusto spazio alla lotta a questo fenomeno gravissimo Sulla stessa linea, il secondo ordine del giorno, affirma Domenico Rossi, Partito Democratico che è stato approvato con alcune modifiche proposte dall'assessore alla sanità Luigi Icardi Numerose anche le iniziative organizzate dall'Assemblea legislativa per promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network Lunedì 7 febbraio si è svolto il convegno online trasmesso in streaming sul canale YouTube del Consiglio regionale Le parole che curano, ascolto, mediazione, accoglienza, responsabilità organizzato dall'Associazione Essere Umani e il Comitato Torinese dell'UNICEF con il patrocinio del Consiglio regionale attraverso la garante per l'infanzia e l'adolescenza, Ilenia Serra Roberto Pani entra nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Regio di Torino così è stato deciso dal Consiglio regionale che ha votato la nomina nel corso della seduta di martedì Parliamo ora di trasporti Quanti e quali progetti relativi alla mobilità ferroviaria la Regione intende proporre al finanziamento del PNRR? Questo l'interrogativo che il Consigliere Partito Democratico Maurizio Marello ha rivolto all'Assessore ai Trasporti Marco Gabusi nell'ambito dei Question Time Rispetto alle ferrovie regionali ha sottolineato Gabusi la Regione Piemonte ha lo stanziamento maggiore in Italia con 140 milioni di euro per la Canavesana e la Torino Ceres che consentiranno l'ammodernamento, la funzionalità e l'interconnessione alla rete nazionale Giorno del ricordo Numerosi gli eventi sostenuti dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale Proseguono fino al 5 marzo le iniziative organizzate in occasione del giorno del ricordo che si celebra il 10 febbraio per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe dell'esodo dalle loro terre degli striani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale Gli eventi sono sostenuti dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e promossi dal Comitato di Torino dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Fino al 4 marzo nelle vetrine dell'ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte di via Arsenale 14 a Torino è allestita la mostra fotografica Esodo Istriano Dalmata Le immagini e i materiali esposti provengono dall'archivio della sezione torinese dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Tra le altre iniziative in programma giovedì 10 febbraio Santa Messa in Duomo cerimonia commemorativa al cimitero monumentale alla presenza delle autorità e cerimonia istituzionale a Palazzo Civico Giovedì 17 febbraio in corso cincinnato a Torino si terrà una cerimonia commemorativa composa di una corona alla targa dedicata dal Comune di Torino agli esuli istriani, fiumani e dalmati Il dettaglio di tutti gli eventi in programma per il giorno del ricordo è consultabile sul sito cr.piemonte.it Prosegue la formazione online per gli studenti partecipanti al progetto Ambasciatori del Consiglio regionale Nuovo evento formativo online per gli studenti aderenti al progetto Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte organizzato questa volta dalla consulta femminile regionale I ragazzi dell'Istituto di Istruzione Secondaria Gaia Ulenti di Biella e del Liceo Scientifico Filippo Juvarra di Venaria hanno incontrato Ornella Toselli e Maria Alessandra Parigi rispettivamente presidente e vicepresidente della consulta femminile regionale Toselli ha illustrato l'importanza che ha assunto nel nostro paese il rafforzamento della normativa sul tema della violenza sulle donne come risposta all'allarmante fenomeno del femminicidio Parigi ha invece posto l'accento sulla necessità di garantire alle donne lo stesso trattamento economico rispetto agli uomini Rivolta agli allievi del triennio delle scuole superiori l'iniziativa Ambasciatori del Consiglio regionale che ha visto il Consiglio regionale del Piemonte quale prima Assemblea legislativa italiana a proporla rientra nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e consente di acquisire crediti formativi Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci